Il Mazzara, riduce da tre vittorie consecutive, ospita il Nino Vaccaro, Monreale, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Sciacca, che deve rinunciare alla Sciacato Ciancimino, si affida in avanti al tridente Camareri, Erbini, Palumbo. Tridente anche per il neotecnico Tarantino, con cardinale alle spalle dei due ex canarini, Hocolier e Gimò. L'avvio del match è tutto per i padroni di casa. Al quinto è bravo Palumbo a liberarsi al tiro, ma la sua conclusione termina alta. Passano i minuti ed il Monreale cresce sul piano del gioco, ma alla mezz'ora il Mazzara ci prova con una doppia conclusione. Sul primo tentativo di Camareri si fa trovare pronto Durantini, mentre sulla ribattuta Gancitano non inquadra il bersaglio grosso. L'occasione più ghiotta della prima frazione per i canarini arriva al trentacinquesimo. Palumbo mette un buon pallone in area, Camareri fa da sponde per Cicci Orbini, ma il capitano pecca di freddezza, sprecando una chance clamorosa. Sul finire del primo tempo sale in cattedra il Monreale. Al quarantunesimo ci prova cardinale dal limite, ma il suo tiro viene deviato in angolo. Nei minuti di recupero, invece, un insidiosissimo diagonale di Ocolier mette i brividi alla retroguardia canarina, graziata dal leggero ritardo neapolitano. Si va all'intervallo a reti inviolate. Al cinquantaduesimo, su un calcio d'angolo battuto da Fina, Gancitano salta indisturbato, ma il suo colpo di testa a cercare il palo più lontano risulta impreciso. La retroguardia canarina, più in giornata di regali che in giornata di grazia, al cinquantasettesimo si lascia suggerire Ocolier, che colpisce a botta sicura, senza però aver fatto i conti col piedone di montagna che compie un vero e proprio miracolo. Miracolo che non si ripete sul susseguente calcio d'angolo, quando Sansone, con un tocco chirurgico, mette la sfera nell'angolino per l'1-0 degli ospiti. Dilmazzaro ottiene il pareggio. Cammareri guadagna il fondo e pennella in aria per Capitano Erbini, che di testa insacca il suo terzo gol in campionato. I presupposti per ribaltare il risultato ci sono tutti, almeno fino all'ottantesimo, quando la difesa canarina combina l'ennesimo pasticcio, consentendo al cecchino Gimò di realizzare il classico gol dell'ex, che gela il Nino Vaccara. L'attaccante nigeriano non esulta, ma nulla può contro l'incontinibile gioia dei compagni. All'ottantasesimo, il non entrato la Commare va ad oltranza con le proteste, nonostante il direttore di gara gli avesse già segnato il calcio di punizione. Cartellino rosso per lui e parità, almeno quella numerica, ristabilita. Nel finale, il Mazzara tenta il tutto per tutto, giocando addirittura con quattro punte. Nell'ultimazione della gara, per poco non riesce nel colpaccio, con Bono che in scivolata si vede negare il gol da un fortunoso intervento di Durantini. La cura a Tarantino funziona ed il Monreale ottiene la prima vittoria stagionale, espugnando il Nino Vaccara. Il Mazzara, a tratti troppo nervoso, paga la poca determinazione in tutti i reparti e la troppa prevedibilità in fase di impostazione. Domenica, ad attendere Canarini, ci sarà la capolista Acragas. E se è vero che questa sconfitta non consente al Mazzara di presentarsi con il poker in mano, questo non vuol dire di certo che il Mr. Shaka non possa avere ugualmente i suoi assi da giocare.